Raffaele, Ioime, un passato importante con il Latina, anche in Romania, ora ad Ischia ritrovi il mister Maurizzi dopo la breve esperienza a Viareggio. Sì, è stata una breve esperienza come l'hai chiamata te, poi sappiamo tutti come è finita. Sono contento di aver fatto questa scelta, sono contento che loro comunque si siano ricordati di me e non posso fare altro che ringraziarli loro, compreso il direttore e la società dell'Ischia Calcio. Una bella lotta, quattro portieri, Mennella, Giordano e Taglialatela. Sì, siamo quattro portieri, sono tutti ottimi portieri, c'è chi ha più esperienza, c'è chi ha giocato tanto, c'è chi sta crescendo come Taglialatela e ce la giocheremo, poi sarà il mister a decidere chi sarà il titolare, però almeno l'Ischia si può dire che è in buone mani. Sei partito da Catania, poi hai fatto un bel giro per l'Italia. Sì, ho fatto i settori giornali a Catania, poi ho giocato in C, sono andato anche all'estero in Romania, ho fatto anche tante serie D, oggi mi ritrovo a Dischia in Liga Pro e speriamo di continuare così. L'esperienza in Romania, un'esperienza breve dovuta a cosa? L'esperienza breve è dovuta anche a un fattore economico, perché comunque non sei tutelato da nessuno, invece in Italia sì, è bello tutto, l'ambiente, i tifosi, però ho preferito poi ritornare in Italia perché già si fa fatica ad avere un mercato in Italia giocando in Italia e stando all'estero diventa ancora più faticoso. La tua esperienza più bella probabilmente è a Latina, visto un po' di rigori parati, delle belle parate. Sì, sicuramente, a Latina abbiamo coronato un anno spettacolare con mister Pecchia che poi alla fine ha chiuso con Sanderra, abbiamo vinto Coppa Italia, ha campionato, abbiamo giocato comunque un po' tutti quell'anno. Avevamo giocatori importanti, quindi è stato raggiunto l'obiettivo prefissato. Senti, adesso ad Ischia c'è la salvezza da raggiungere, che pensi, che idea ti sei fatto? Io penso che l'Ischia, dopo tanti sacrifici che ha fatto, non può permettersi di lottare per la retrocessione. Certo, adesso è in piena zona play-out, sta arrancando, però abbiamo tutto il giorno di ritorno e tutti questi sei mesi di ritorno per cercare di raggiungere, penso, l'obiettivo comune di tutta l'isola, non solo di noi calcio.